eccoci qui ragazzi sono goldrake eccoci qui ragazzi sono goldrake e come vedete ragazzi io sono qui in un nuovissimo video oggi ragazzi siamo qui in una nuova gara stunt barra parkour scusate se vedete che è già partita ma non mi era partita la registrazione della webcam quindi non chiedetemi niente non chiedetemi niente allora abbiamo appena fatto qualche check del teletrasporto e siamo qua quindi è appena appena all'inizio ringrazio ragazzi ovviamente tutti quelli che sono entrati in gara allora attenzione qua eh ok 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 vai 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 va bene perfetto ragazzi siamo ci siamo ci siamo allora attenzione qua eh ok comunque ragazzi staranno passando tutti i miei social mi raccomando dateci un'occhiata allora ok vai eh space docker non tradirmi passa 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 ok ringrazio ovviamente tutti quelli che sono entrati che siete in tanti ragazzi siamo quasi full lobby quindi vi ringrazio perché davvero state entrando molto nelle attività ed è un peccato che non sia partita la webcam non lo so perché però abbiamo perso circa 20-25 secondi comunque adesso andiamo al massimo abbiamo un turbo ok un freno ok 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 non esplodere oddio Antonio Antonio esploso povero Antonio raga non so perché solo lui esploso ma adesso noi dobbiamo cercare di andare andiamo andiamo sesta posizione terza posizione ok bello x laser che è crashato terza posizione raga non si decide neanche gta ok perfetto vai andiamo andiamo piano 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 no 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 eh raga mi ha trollato sta parte devo fare dei salti più decisi quindi veloci respawniamo ok siamo dietro a micchi ok micchi adesso vengo a prenderti e ti devo arare ok no 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 piano 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 comunque vai 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 raga finiremo nello spazio in questa gara no 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 ok più accelerazione che altrimenti ci trolliamo perfetto seconda posizione primo c'è il nostro castio quindi grandissimo castio allora aspettate che ci rigiriamo con eleganza raffi raffi e niente raffi ha preso il volo raffi ha preso il volo allora aspettate che qua cerchiamo di non sbagliare per restare in gara belli secondi ok adesso bisogna tornare indietro ancora perché vedo che castio torna indietro ma c'erano già le frecce che lo indicavano stavo per cadere raga eh attenzione ok vai 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 salta di qua adesso praticamente dobbiamo rifarlo penso proprio di sì ok adesso andiamo qua bello sboc allora aspettate ok andiamo di qua andiamo di qua adesso è finito il giro è finito il giro abbiamo qua castio che sta andando abbastanza veloce raga ok perfetto vediamo se riesce sì ok adesso andiamo giù no 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 non ci credo raga non ci credo devo rifare tutto non ci no raga guardate che troll non ci credo raga questa è la fretta della volpe allora adesso dobbiamo però andare un attimo più veloci per forza raga altrimenti le nostre posizioni le possiamo salutare quindi allora andiamo di qua perfetto e giriamo a sinistra fra è ancora un po indietro smoke invece è il terzo perfetto abbiamo la terza posizione qui sentite che rumori fanno raga tipo il clacson del space docker penso non penso lo faccio in automatico comunque ecco come non detto si è trollato ok adesso andiamo con calma perfetto allora il podio ce l'abbiamo io vorrei la prima posizione comunque questa gara uf1 adesso ok di qua perché vedo che c'è ok c'era la barriera ragazzi questa gara è stata creata da soldato da morte allora qua è un salto si 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 troppo 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 no va bene va bene va bene va bene in verità adesso mi sa che è un altro salto perché almeno se ha fatto tutto così io provo ad andare ok vai 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 storti 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 lo sapevo lo sapevo devo rifare raga sono secondo chi è il primo aspettate eh niente adesso quarto ah prima è castio raga castio non scappare castio grandissimo grazie mille fra gentilissimo che ci scrive ok aspettate un attimo eh fatemi un attimo conci no no rega perché 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 devo anche allontanare la visuale quindi adesso lo facciamo subito perfetto così è molto meglio siamo in quinta posizione ok terza niente quarta e vabbè fa quello che vuole gta ok allora andiamo 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 no rega ancora ancora rega ancora devo stare drittissimo raga drittissimo allora ci risiamo sono un bel po' di persone qua eh allora aspettate che adesso ce la facciamo promesso basta stare dritti ok vai 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 dritti siamo veloci anche perfetto allora qua abbiamo fra allora adesso io cercherei di stare il più dritto possibile ok vai 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 veloce sì ci siamo ci siamo come quinti oh come quinti no deve recuperare deve recuperare la volpe recuperiamo via 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 andiamo andiamo al quarti no quinti 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 siamo quinti niente da fare la posizione è la quinta ok cosa c'è ok no 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 però ho preso il check spero di sì raga ma solo io mi sono suicidato come è possibile ok allora qua vedo che ci sono un po' tutti ok tranne castio che ha preso il check allora ok oh raga ma perché quello è messo così male aspettate eh questo dobbiamo andare così ok aspettate un attimo occhio fra ok ok aspettate raga c'è l'equilibrio piano 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 l'equilibrio che ci trolliamo vai no non ci trolliamo non ci trolliamo adesso altra parte con le porte mi da prima posizione ma non lo sono in prima posizione state tranquilli che non lo sono ok adesso raga è diventato una un parkour estremo perché qua ci sono le parti super 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 fini allora qua ok allora andiamo 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 dove si va ah ok qua ok piano eh piano perfetto ci siamo il checkpoint dice no il checkpoint non parla in verità però 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 dov'è ok no 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 piano allora dice che sono primo qua ma non so niente potrei no 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 mamma mia mamma mia troppa tensione troppa tensione castio è sparito castio è sparito eh siamo primi zitti zitti tutti siamo primi eh siamo primi 8 minuti di gara raga non dura poco eh sapete che non dura assolutamente poco allora qua andiamo qui perfetto qua io seguirei la strada a questo punto vediamo dov'è eh il allora prima ci siamo passati praticamente sopra al razzo spaziale adesso non so dove potrebbe essere ok quindi ah siamo proprio qua qua è dietro è questo in verità eravamo dentro il razzo quindi adesso andiamo prendiamo un aereo ok laser 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 ok no raga non sono bravo io con queste cose non sono bravo non fatemi scherzi laser non fa ma perché si vede così male cos'è oh piano 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 no 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 raga non si capisce niente ho il mal di mare ho il mal di mare anche se siamo in aria il mare non c'è allora il carellino non c'è questa è una buona cosa ma perché mi da che devo girare e poi non giro oh piano 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 vabbè dai li stiamo prendendo eh li stiamo prendendo tutti ok vai anche qua un attimo di concentrazione raga perché questa cosa mi sta trollando e non poco ok eccolo lì eccolo lì raga il nostro razetto spaziale che è molto molto carino abbiamo concluso no dove no 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 adesso mi trollano vi immaginate che arriva qualcuno e mi frega la posizione io spero di no eh io spero oh 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 dove è no c'è qualcuno c'è qualcuno raga oh eccolo 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 prima posizione mamma mia avevo paura eh avevo paura che qualcuno mi potesse fregare la posizione e invece no raga mi è andata bene mi è andata veramente veramente bene perché se c'era qualcuno leggermente più vicino mi avrebbe sicuramente fregato la posizione allora ragazzi io sono partito 25 secondi in ritardo dalla gara mi dispiace non sono partito subito subito ma non era successo ancora praticamente niente quindi ragazzi eh io adesso vedo tutte le belle volpone trollate ovviamente ringrazio tutti quelli che sono entrati Castio è arrivato in seconda posizione allora io devo ringraziare assolutamente tutti quelli che sono entrati ringrazio infatti Castio fra 96 e 96 Antonio Viola, Smoke, Gabri, Tony Mods che è il nostro Antonio Glitchman che è Marco insieme ad Alessio Roby, MadeMTK e poi chi è crashato barra acquittato RuffiGamer e Miki ragazzi io ringrazio veramente tutti per essere entrati grazie mille siete molti che ultimamente state entrando vi staranno scorrendo in basso a sinistra ancora tutti i miei social mi raccomando dateci un'occhiata come ho già detto in precedenza e niente ragazzi mi raccomando lasciate un bel like iscrivetevi se non siete iscritti attivate la campanellina e noi ci vediamo al prossimo video bella iscrivetevi al canale